radiov.it o sticino alla voce oggi una giornata un po uggiosa però ce la rallegriamo con la nostra ospite sofia gottardi ciao benvenuta ciao caro come stai sto bene oddio mal di gola e ho caldo per colpa di questo tempo quindi l'inverno e l'estate messi assieme in modo peggiore ma sto bene siamo ancora relativamente giovani ma possiamo lamentarci del tempo come gli altri perché paghiamo le tasse possiamo farlo sofia stand up comedian made in padova e anche medi in un ipd perché sei scritta al dams ancora quindi sei della famiglia università di padova però fai anche l'attrice di stand up comedy esattamente come lo chiamo io il dams è anche l'indirizzo degli hipster quindi in realtà ci sta ci sta senti è una cosa su cui prendi ispirazione questo dell'università sono due mondi diversi quella della tua carriera di attrice quella di quando sei sui libri a studiare no sì guarda io potrei fare battute sulla sul mondo dell'arte però la capiscono solo quelli che studiano arte quindi in generale prendo spunto dalla vita di tutti i giorni se mi succedono cose l'università prendo prendo spunto da lì se no ma qui chi ci ascolta sa cos'è la stand up comedy infatti credo che ci sia un'idea un po magari ognuno ha la sua idea io vorrei chiederti la tua definizione particolare se ce n'è una che hai elaborato in questi anni allora la stand up comedy è un tipo di comicità di origine anglosassone americana che è diversa dal cabaret zelige colorado perché generalmente è vietata ai minori di 14 o almeno il mio spettacolo lo è perché si affrontano temi scabrosi che non si possono affrontare in radio o in tv come che ne so sesso traumi infantili tiziano ferro no scusa questa è un'idiozia però si possono dire cose che non si possono dire in radio perché sono troppo complesso troppo scabrose la vecchietta arriva e magari può scandalizzarsi ma gli studenti non penso quindi il senso però della cosa è non dire dicevamo anche prima fuori onda dire come dire volgarità gratuite ecco però incastrare tutto quanto in dei monologhi che sono uno spettacolo teatrale vero e proprio esatto se sei volgare come comico lo sai perché nella vita reale di tutti i giorni non sei un angioletto però ovviamente devi anche avere qualcosa da dire non è che puoi dire solo parolacce tra l'altro stand up comedy e anche su netflix se scrivete che ne so luisi che sarà silverman su netflix vi trovate praticamente gli autori un po di riferimento loro sono il re la regina della stand up comedy li amo che tu sogni di far accoppiare in qualche maniera vedo ai tuoi occhi madonna sì per creare qualcosa senti e tu che tipo di di attrice sei di stand up come sono i tuoi monologhi ti sei autodefinito ogni tanto magari lo fai come esercizio non so guarda io generalmente porto un tipo di comicità che è personale perché prendo spunto dai miei difetti ad esempio come si sente ho la voce da trans una voce molto bassa non femminile quindi mi prendo in giro oppure prendo spunto dai miei difetti per poi parlare della società poi sono anche un po surreale sul palco infatti do l'idea di essere quella strana che inquieta le persone ma vuole comunque essergli amica che bella cosa che cosa triste no perché è carino credo che una delle cose fondamentali della anche degli spettacoli che ho visto io è quella di essere molto vicini al pubblico nella stand up e quindi creare un'empatia e cogliere anche degli spunti magari che arrivano anche se magari più difficile inserirli in un monologo che è già pronto no? sì sì come stand up comedian sei vicino al pubblico se magari uno del pubblico purtroppo disturba non è che fai finta di niente improvvisi un attimo e ci può stare ci può stare senti tu mi dicevi che hai cominciato prestissimo magari in un momento in cui la stand up non era neanche così famosa di sicuro appunto prima di netflix si vedeva un po meno prima di facebook si vedeva un po meno infatti ho cominciato a 17 anni dove la stand up comedy ancora non c'era tu non potevi andare i tuoi spettacoli praticamente questo era il discorso tra guarda potevo è vero potevo sono andata in giro per dei laboratori zero colorado portando dei monologhi che gli autori mi dicevano sei brava magari è giusta questo giusta questo una volta un autore di colorado mi ha chiesto se ero interessata io sono entrata nel panico e ho detto no perché pensavo che colorado non andasse bene per me e forse ho fatto un'idiozia ma no no adesso magari ci torni non è che poi una volta che ti hanno detto di no ma in realtà colorado e zelli che non hanno più successo con me una volta io non ho nulla contro chi fa colorado e zelli perché ci sono bravissimi comici solo hanno creato un monopolio se fai qualcosa di diverso sei tagliato fuori senti la battuta più cattiva che hai scritto che hai detto ma non posso dirla in radio cambia parole usa dei sinonimi oh mio dio si può dire sì 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 si può dire ok allora madonna scusa io mi scuso con quelli della radio allora la madre dei bigotti è sempre incinta i figli non la fanno abortire dai vabbè ma si può dire sono un po' cattiva non si può dire senti c'è invece una persona qualche personaggio a cui ti ispiri che lo caratterizzi magari durante lo spettacolo adesso non voglio spoilerare troppo magari c'è una macchietta che fai qualcosa in cui ti trasformi non so ecco una cosa la stand up comedy non ci sono personaggi comici perché porti te stesso sul palco parlerò di argomenti come che ne so esperienze sessuali finite male magari bullismo parlerò di la situazione della donna in Italia però lo porto a modo mio ok esatto va bene quindi non volevo non volevo andare troppo sul biografico e non voglio neanche svelare poi quello che sarà ma no il monologo che presente anzi lo spettacolo scusa che presenterai il 18 di ottobre al circolo nadir e quindi chi vuole può venirti a vedere lì sai già come inizierai quello possiamo dirlo forse all'inizio dello spettacolo si può fare allora si chiama sesso droga e coniglietti fa parte della rassegna organizzata da davide quagliotto detto geo che comunque nella sua rassegna c'è diversi tipi di non solo sono spettacoli di stand up cosa intendi con come inizierò getterò gattini sul palco o conigli questo caso o conigli esatto ma no all'inizio dirò idiozie e cercherò di fare stare un po' svegliere persone poi a un certo punto comincerò si spera cioè no magari mi lanciano addosso verdure no 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 sono un pubblico educato e anzi che avrò molta voglia di sentirti grazie mille Sofia Gottardi grazie a te caro si dice tanta merda anche nella stand up come nel teatro se si può dire il radio va bene si si può dire tanta merda per lo spettacolo e ci vediamo presto a presto e lei a presto